Parliamo della vittoria del Pergo con Gigi Sartirana, l'allenatore del Pergolettese. Allora Gigi, una vittoria soffertissima. A un certo punto sembrava fatta perché avevamo in pugno una situazione sul 2-0. Addirittura nel secondo tempo abbiamo avuto subito all'inizio un'occasione per fare 3-0 e poi c'è stato quell'infortunio che ha dato la possibilità a loro di accorciare distanze. Però io penso che la squadra abbia dato molto perché anche come energia, come motivazione, penso che comunque la vittoria sia meritata. Noi chiaramente non riusciamo mai a rilassarci un attimo, a poter magari vincere in bellezza perché la nostra storia di quest'anno è quella di soffrire sempre. Però io penso che alla lunga, se guardiamo nel complesso della partita, abbiamo sbagliato diverse occasioni da gol per cui penso che non ci sia niente da dire perché tra l'altro se andiamo a vedere bene sul rigore adatto a noi c'era una chiara espulsione. Adesso penso che andasse direttamente in porta. Una vittoria particolarmente importante vista anche la settimana che è stata quella del Pergo. Prima settimana in mercato, tante cessioni, tante uscite, tantissime polemiche, quindi difficoltà anche da questo punto di vista. Ma c'è sempre il rischio quando ci sono dei cambiamenti che magari si perde un po' la concentrazione, però io penso che la squadra oggi abbia dimostrato invece che c'è, che vuole far bene e abbiamo tutta la nostra intenzione di finire bene, cercare di dare il massimo e al di là di queste situazioni di mercato che penso che poi alla fine quando uno decide si decide sempre entrambi e si pensa al meglio per entrambi, per cui sono contento che comunque i ragazzi hanno risposto bene e questi tre punti, noi a Gozzano, poi abbiamo vinto a Mapello e abbiamo vinto oggi, penso che una serie così quest'anno non l'abbiamo ancora fatta. in gara con luci ed ombre, gara giocata a tratte, iniziata male, all'inizio partita e all'inizio secondo tempo e a tratti bene, bisogna ancora trovare un po' di continuità? Sì, nel primo tempo, i primi 20 minuti non abbiamo giocato sicuramente bene, ma abbiamo sofferto un po' il possesso palla loro, ma anche loro mi sembra che avessero fatto un paio di tiri centrali e noi abbiamo avuto in quello frangente anche due occasioni con un tiro di Valente e l'altro di Conti e poi dopo, secondo me, quando abbiamo fatto gol, poi abbiamo giocato bene, abbiamo rimediato e abbiamo tenuto in pugno la partita. Questo nuovo look da mezz'ora a questa parte? Ma mi hanno tagliato in diretta i capelli perché le promesse vanno mantenute, mi hanno detto che se vincevamo col Caravaggio io devo pagare Dazio e l'ho pagato, io le promesse le mantengo sempre.